C'è qualche difficoltà per la verità sia per le strade comunali che quelle provinciali perché molto asfalto è saltato tenendo conto che questo è un paese che viene tutti i giorni percorso da automezzi pesanti e quant'altro. Per cui proprio stamattina abbiamo fatto un incontro con l'ufficio tecnico, l'ufficio ragioneria per determinare insieme alla parte degli operai e quant'altro di fare degli interventi in economia o interventi anche più importanti per mettere in sicurezza soprattutto le nostre strade con interventi precisi anche all'interno del centro storico dove ci sono dei pavimenti mattonellati i quali praticamente avendo avuto in questi anni purtroppo la poca accortezza di molte macchine e automezzi che hanno veicolato si sono totalmente rimossi. Grazie